Da lunedì ci si avvicina il ritorno alla normalità, una normalità fatta di mascherine e distanziamento. La conferma dal presidente Massimiliano Fedriga alla presentazione delle linee guida proposte dalle regioni e accettate dal governo. Ribaltate le raccomandazioni dell'Inail, nessun limite di capienza negli spazi interni basato sui metri quadrati, vige la regola, aurea del metro di distanza. Lunedì riaprono bar, ristoranti, negozi, servizi alla persona come parrucchiere ed estetisti, mercati e fiere, autoscuole, palestre, centri sportivi e piscine. E dal primo giugno, questa l'intenzione di Fedriga, anche i centri estivi. Ogni attività avrà un protocollo elaborato con gli esperti in modo da venire incontro alle richieste delle categorie. Saltano i 5 metri di distanza tra gli ombreloni che potranno essere piazzati uno ogni 10 metri quadri. Mentre basterà la distanza di un metro tra bagnanti, sia negli stabilimenti, sia nelle spiagge libere. Nella ristorazione, vietato il buffet, ammessa la consumazione al banco. In ogni caso, la mascherina è necessaria quando non si sta seduti al tavolo. Mascherina anche dal parrucchiere e dall'estetista. Estetista che dovrà indossare una FFP2 senza valvola e una visiera. Nel commercio al dettaglio, la novità sono i guanti monouso in caso di contatto con la merce. Nelle piscine non meno di 7 metri quadri a persona, di spazio sia in acqua sia fuori, saune vietate. Per le palestre, l'eccezione, sono i 2 metri di distanza in caso di attività fisica, oltre a una serie di altre prescrizioni. Rimangono chiusi cinema, teatri operativi solo per produzione. In tutti i casi si consiglia, ma non è obbligatoria, la rilevazione della temperatura. Per il governatore Pedriga è la vittoria del buonsenso. Oggettivamente, se pensavamo di andare avanti in maniera destrittiva con le linee guida INAIL, vorrebbe dire semplicemente non riaprire nulla. E appunto il buonsenso di tenere insieme quelle esigenze di cui parlavo, sta proprio penso in queste linee guida che hanno preso insieme tutte le regioni italiane per cercare di dare una risposta al diritto alla salute e al diritto al lavoro. Sugli spostamenti si attende il DPCM, ma la regione è intenzionata a liberalizzare tutto. Ci si potrà muovere all'interno del Friuli Venezia Giulia per qualsiasi motivo in ogni luogo. Via libera dunque anche il ritorno del turismo interno. Riaprano infine le attività anche la domenica e nei festivi. Questa fase non giustifica la misura, spiega Pedriga, nonostante sia favorevole alle chiusure domenicali. Grazie a tutti.